Schianto frontale questa mattina a Ponte Buriano, lungo la strada regionale 71, è successo attorno alle 7.30. Due le auto rimaste coinvolte nel grave incidente, ad avere la peggio un 29enne, residente a Cassiglion Fibocchi, che ha riportato vari traumi. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza della misericordia di Arezzo e un'automedica. L'uomo è stato trasferito poi d'urgenza con l'elissoccorso Pegaso all'ospedale Fiorentino di Careggi in codice rosso, illeso invece il conducente dell'altra auto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi di legge.